Il più grande e migliore architetto sia nelle nostre terre. Il più grande e migliore architetto sia nelle nostre terre. Quando incontrano la storia, questi periodi incantati, si scontrano magicamente da questa mistica fusione, nasce lo spettacolo. Il più grande e migliore architetto sia nelle nostre terre. Il più grande e migliore architetto sia nelle nostre terre. Il più grande e migliore architetto sia nelle nostre terre.